si stava parlando di sequestri di persona in riferimento a un recente processo eravamo alla fine di una riunione tra amici in rue des grenelles in una vecchia casa e ognuno aveva una storia da raccontare una storia che affermava essere vera allora il vecchio marchese della tour samuel di 82 anni salzò e venne ad appoggiarsi al caminetto disse con la sua voce leggermente tremula anch'io conosco una storia strana talmente strana che mi ha ossessionato per tutta la vita questo caso mi è capitato 56 anni fa ed io lo rivivo in sogno almeno una volta al mese da quel giorno sono segnato marchiato a fuoco dalla paura riuscite a comprendermi sì per dieci minuti ho provato un terrore così forte che da quel momento è rimasto impresso nel mio animo costantemente ogni rumore inatteso mi fa trassalire gli oggetti che al calar della sera distingue appena mi danno un folle desiderio di fuggire insomma ho paura della notte non avrei mai confessato una cosa simile prima di essere arrivato alla mia età attuale adesso posso dire tutto c'è concesso di non essere coraggiosi di fronte a pericoli immaginari quando si hanno 82 anni davanti a pericoli reali non mi sono mai tirato indietro caro signore quell'episodio mi ha sconvolto ha provocato in me un turbamento così profondo misterioso e orrendo che non l'ho mai raccontato l'ho osservato nel fondo dell'anima dove si suol nascondere segreti penosi o vergognosi tutte le inconfessabili debolezze che abbiamo avuto nel corso dell'esistenza vi riferirò l'accaduto senza tentare di trovarvi una spiegazione è certo che non esistono spiegazioni a meno che io per un'ora non sia divenuto folle ma no non ero pazzo e ve ne darò la prova insomma pensate quel che volete ecco i fatti eravamo nel 1827 nel mese di luglio ero di guarnigione a Rouen un giorno mentre stavo passeggiando sulla strada che costeggia il fiume incontrai un uomo che mi sembrò di conoscere senza tuttavia ricordarmi chi fosse per istinto mi venne fatto di fermarmi l'uomo sconosciuto notò il gesto mi guardò e venne ad abbracciarmi era un amico della prima giovinezza a cui avevo voluto molto bene non lo vedevo da cinque anni ma sembrava invecchiato di mezzo secolo aveva i capelli bianchi e camminava piegato in due a stento privo di forze comprese la mia sorpresa e mi raccontò la sua vita era stato colpito da una tremenda sciagura pazzamente innamorato di una ragazza l'aveva sposata era stato felice straordinariamente felice dopo un anno di gioia sovrumana ed inesausta passione e l'era morta all'improvviso per una malattia cardiaca senza dubbio uccisa da quello stesso amore forse nato aveva lasciato il castello in cui abitava lo stesso giorno del seppellimento ed era venuto a stare in una casa che aveva a Rouen viveva qui solitario e disperato consumato dal dolore e così infelice che non faceva che pensare al suicidio mi disse visto che t'ho ritrovato ti chiedo di darmi il tuo aiuto e cioè di andare a cercare in casa mia nella scrivania della mia camera della nostra camera certe carte che mi occorrono con urgenza non posso dare questa incombenza a un subalterno o a un uomo d'affari in quanto sono indispensabili discrezione e silenzio assoluti e quanto a me neanche al mondo potrà persuadermi a rimettere piede in quella casa ti darò la chiave della camera che io stesso ho chiuso a doppia mandata quando sono venuto via e anche la chiave della scrivania consegnerai un mio biglietto al giardiniere che ti introdurrà al castello anzi vieni a far colazione con me domani e chiacchiereremo su questo promisi di fargli questo piccolo favore si trattava solo di una passeggiata per me perché le terre del mio amico erano a circa cinque leghe da Wuhan una cavalcata di un'ora ero da lui il giorno dopo alle dieci se ne ammo da soli ma egli non disse che poche parole mi pregò di scusarlo il pensiero che avrai visitato quella camera che era stato il luogo della sua felicità lo metteva in agitazione così mi disse e infatti mi sembrò stranamente preoccupato sconvolto come se una lotta interiore fosse in corso nel suo animo infatti mi spiegò con esattezza quel che dovevo fare era assai semplice dovevo prendere due pacchetti di lettere e uno scartafaccio di camere che erano chiusi nel primo cassetto a destra di quel mobile di cui avevo la chiave aggiunse non ho bisogno di pregarti di non leggere di non guardare niente fui quasi ferito da queste parole e glielo dissi francamente allora sussurrò scusami sto troppo male e scoppiò in lacrime lo lasciai verso luna per portare a termine l'incarico c'era un tempo radioso andavo al gran trotto attraverso i prati ascoltando il canto delle allodole il rumore cadenzato della mia sciabola sullo stivale poi entrai nella foresta e mesi il cavallo al passo rami d'albero mi accarezzavano il viso qualche volta chiappavo al volo una foglia con i denti e la masticavo con una sorta di avidità tanto era saturo non so perché di gioia di vivere di una felicità tumultuosa e inafferrabile di una sorta di ebrezza nelle vicinanze del castello cercai in tasca la lettera per il giardiniere e mi accorsi con stupore che era sigillata ne fui talmente sorpreso e irritato che per poco non tornai indietro rinunciando a portare a termine l'incarico ricevuto poi riflettei che in questo modo avrei dato prova ad una suscettibilità di cattivo gusto il mio amico aveva potuto sigillare il biglietto senza farci caso nel turbamento in cui era il castello pareva abbandonato da vent'anni il cancello aperto e pericolante stava in piedi per miracolo l'erba aveva ricoperto i viali non si distinguevano più i margini delle aiuole al rumore che feci bussando coi piedi a un'imposta uscì da una porta laterale un vecchio che parve meravigliato di vedermi saltei a terra gli consegnai la lettera la lesse la rilesse la girò la rigirò osservò ancora rimise il biglietto in tasca e finalmente spiccicò queste parole va bene allora che volete fare risposi sgarbatamente dovreste saperlo dato che avete ricevuto degli ordini dal vostro padrone voglio entrare nel castello sembrava terrorizzato dichiarò allora volete davvero entrare nella nella sua camera cominciai a spazientirmi perbacco avete intenzione di farmi un interrogatorio per caso balbettò no signore il fatto è che è che non è stata più riaperta da dalla morte se volete avere la cortesia ad aspettare cinque minuti andrò a veder a vedere se ha dirato l'interruppi ma andiamo volete prendermi in giro lì non potete entrare ecco ho qui la chiave io non sapeva più cosa dire allora signore vi mostro la strada indicatemi dov'è la scala e lasciatemi solo la troverò da me eppure signore questa volta non mi trattenne adesso state zitto o l'avrete a che fare con me gli letti una spinta ed entrai nella casa attraversai dapprima la cucina poi due piccole camere che il giardiniere occupava insieme alla moglie trovai un grande atrio salì la scala padronale e individuai la porta che l'amico mi aveva indicato aprì facilmente ed entrai l'appartamento era così buio che da principio non distinsi nulla mi fermai infastidito da quell'odore vagamente ammuffito che hanno le stanze disabitate e inutilizzate le stanze della morte poco dopo i miei occhi si abituarono al buio e vidi abbastanza distintamente il disordine il letto senza lenzuola ma con il materasso e i guanciali uno dei quali aveva ancora l'impronta di una testa o di un gomito che vi si era appoggiato le sedie sembravano in disordine notai che uno sportello quello di un armadio era rimasto semi aperto per prima cosa andai alla finestra per avere un po' di luce e l'apri ma le parti in ferro dell'imposta erano così intaccate dalla ruggine che non riuscì a farle cedere tentai di romperle con la sciabola senza riuscirci poiché mi ero irritato per questi tentativi inutili e intanto i miei occhi si erano perfettamente abituati all'oscurità rinunciai alla speranza di far chiaro e passai alla scrivania mi sedetti nella poltrone abbassai la tavoletta di chiusura e aprì il cassetto che me l'ha stato indicato era pieno fino al bordo dovevo prendere tre pacchetti che sapevo come riconoscere mi misi a cercarli sgranai gli occhi per poter decifrare le scritte credetti di percepire o meglio di presentire un fruscio alle mie spalle non feci caso pensando che una corrente d'aria avesse fatto muovere qualche stoffa ma di lì a un minuto un altro movimento quasi indistinto mi procurò un piccolo brivido sgradevole era stupido emozionarsi talmente stupido che non voglio volgermi indietro per una sorta di pudore verso me stesso proprio in quel momento avevo rintracciato il secondo dei pacchetti che dovevo prendere trovai anche il terzo e in quel momento un profondo sospiro di pena emesso sulla mia spalla mi fece fare un balzo folle spostandomi di un paio di metri nello slancio mi ero girato la mano sulla sciabola e sicuramente se non me la fossi sentita al mio fianco sarei scappato come un vile mi stavo osservando una donna alta tutta vestita di bianco proprio da dietro la poltrona dove ero seduto un attimo prima provai in tutte le membra una scossa tale che per poco non cadde all'indietro nessuno può capire come sia spaventoso irrazionale un simile terrore se non l'ha provato l'animo diventa liquido il cuore cessa di battere tutto il corpo diventa molle come una spugna sembra che dentro di noi non esista più niente io non credo ai fantasmi ebbene sono caduto in deliquio a causa dell'orrore dei morti e ho sofferto ho sofferto in quegli istanti più che nel resto della mia vita nell'irresistibile angoscia del soprannaturale se non avesse parlato forse sarei morto ma ella parlò parlò con un timbro di voce dolce e sofferente che faceva vibrare tutti i miei nervi non oso dire che ridiventai padrone di me e che recuperai la ragione no ero perduto non sapevo cosa stessi facendo ma quella specie di intima fierezza che ho in me d'orgoglio della mia professione in parte mi permisero di conservare quasi il mio malgrado un onorevole comportamento fingevo fingevo per me stesso per lei chiunque fosse stata donna o spettro me ne sono reso conto qualche tempo dopo in verità dal momento in cui mi era apparsa non pensavo più a niente avevo paura disse potete aiutarmi signore avrei voluto risponderle ma non mi fu possibile spizzicare una sola parola dalla mia gola uscì un rumore confuso e la continuò vi prego fatelo potete essere la mia salvezza la mia guarigione io sto soffrendo atrocemente sì patisco grandi dolori si sedette con grazia nella poltrona continuava a guardarmi volete farlo risposi sì con il capo più che con la voce paralizzata allora ella mi tese un pettine di tartaruga e sussurrò pettinatemi così guarirò dovete pettinarmi conservate la mia testa come soffro i miei capelli mi torturano i capelli sciolti molto lunghi molto neri così mi parve pendevano da sopra la poltrona sino a toccare terra perché mai l'ho fatto perché ho preso rabbrividendo quel pettine e poi e poi tra le mani quei capelli che mi dettero subito un atroce senso di gelo vicido come se avessi toccato dei serpenti non lo so proprio da allora quella sensazione è rimasta tra le mie dita e se si ripenso rabbrividisco la pettinai toccai quella chioma gelida la piegai l'annodai e lasciosi di nuovo ne fece una trezza simile alla criniera ad un cavallo e la sospirava chinava il capo sembrava sollevata all'improvviso mi disse grazie mi tolse il pettine e sparì dietro quello sportello semiaperto che avevo notato entrando nella camera rimasto solo ebbe per qualche attimo lo stesso turbamento di paura che si prova al risveglio da un incubo poi riacquistai la padronanza dei sensi corsi alla finestra e sfondai le imposte con una furiosa spallata entrò un fiotto di luce mi slanciai sullo sportello dove s'era dileguato lo spettro lo trovai chiuso ermeticamente allora fu invaso dalla frenesia di scappare mi prese il panico lo stesso panico delle battaglie afferrai al volo i tre pacchetti che erano sulla scrivania rimasta aperta attraversai di corsa l'appartamento saltai a 4 a 4 gli scalini mi trovai non so come all'aperto e vedendo il cavallo a dieci passi da me l'inforcai d'un balzo e partii al galoppo mi fermai soltanto quando fui a Wuhan davanti a casa mia affidai le briglie al mio attendente e scappai in camera mia mi chiusi a chiave per riflettere con calma per più di un'ora mi chiasi con ansietà se ero stato o no preda ad un'allucinazione dovevo aver avuto uno di quegli incomprensibili sconvolgimenti cerebrali una di quelle scosse nervose che fanno credere ai miracoli e a cui il soprannaturale deve la sua potenza ero sul punto di credere a una visione a un errore dei miei sensi quando mi avvicinai alla finestra lo sguardo per caso scese lungo il petto in una dolma recava qualche lungo capello di donna che si era impigliato attorno ai bottoni li presi uno ad uno e li gettai nel vuoto le dita mi tremavano poi chiamai l'attendente ero troppo emozionato e turbato per poter andare in quella stessa giornata a casa del mio amico e volevo riflettere attentamente su quello che sarebbe stato opportuno riferirgli gli feci consegnare le lettere ed egli tramite il soldato me ne accusò ricevuta fece molte domande sopra di me gli fu risposto che non mi sentivo bene gli fu risposto che non mi sentivo bene avendo preso un colpo di sole o qualcosa di simile sembrava essere molto preoccupato andai da lui il giorno dopo all'alba deciso a raccontargli la verità era uscito la sera precedente e non era ancora rincasato tornai da lui nella stessa giornata non l'avevano veduto l'aspettai una settimana non fece ritorno allora avvisai la polizia lo fecero cercare ovunque senza trovarne traccia non si sapeva dove potesse essere andato il castello fu visitato e perquisito minuziosamente non trovarono assolutamente nulla di sospetto nessun indizio fu trovato neppure sull'eventuale presenza di una donna che potesse essere nascosta nel castello abbandonato poiché l'inchiesta sarà conclusa con un nulla di fatto ogni indagine fu abbandonata e da 56 anni non ho saputo altro non ne so proprio nient'altro nient'altro no nient'altro Grazie a tutti.